ciao a tutti e benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa nuova lezione di analisi 1 oggi vedremo la presentazione teorica del teorema di hôpital che si usa nelle forme zero su zero ed infinito su infinito cominciamo quindi con la presentazione del teorema di dell'hôpital quindi siano f e g funzioni derivabili in un certo intervallo a b con g' cioè la derivata della funzione g in x che deve essere diverso da zero in tutto l'intervallo a b e sia x con zero un punto appartenente all'intervallo a b quindi noi abbiamo due condizioni che se il limite per x che tende al valore x con zero della funzione f di x è uguale al limite per x che tende ad x con zero della funzione g di x e questo fa zero cioè fanno entrambi zero oppure fanno entrambi più o meno infinito e come seconda condizione il limite per x che tende ad x con zero della derivata prima della funzione f di x sulla derivata prima di g quindi g' di x è uguale ad l con l appartenente ad r allora il limite per x che tende ad x con zero della funzione f di x su g di x è uguale ad l allora ad esempio qui partiamo da un primo esercizio quindi prendiamo ad esempio il limite per x che tende ad x con zero di x meno sen x tutto fratto x alla terza chiaramente qui ci rendiamo conto che se tentassimo di applicare il limite notevole dove sen x appunto è asintotico alla x dovremo andare a scrivere quindi il limite per x che tende a zero di x meno x che sarebbe quindi il nostro sen x visto che sen x per x tendente a zero è asintotico alla x su x elevato alla terza e quindi troveremo diciamo una forma indeterminata quindi del tipo zero su zero adesso quindi proviamo a risolvere questo problema con opital e facciamo quindi il limite per x che tende a zero della derivata prima di x meno sen x sulla derivata prima di x alla terza attenzione che non si tratta quindi della derivata di una frazione ma si tratta praticamente del rapporto tra le derivate delle funzioni chiaramente quindi la derivata prima di x meno sen x sarebbe la derivata prima di x che è uno meno la derivata prima di sen x che è cos x fratto 3x alla seconda che è la derivata prima di x alla terza andando quindi a sostituire andremo a fare quindi uno meno il coseno di zero tutto fratto 3x alla seconda a questo punto ci accorgeremo di avere ancora uno zero su zero in pratica perché il coseno di zero farebbe uno quindi avremo ancora uno meno uno fratto zero però ricordiamoci che sempre per i limiti notevoli uno meno il coseno di x tende ad un mezzo x alla seconda quindi andando quindi a sostituire al posto di uno meno cos x l'assintotico quindi un mezzo x alla seconda avremo al numeratore un mezzo x alla seconda al denominatore x alla seconda quindi i due x alla seconda se ne andrebbero e quindi ci rimane un sesto vi faccio notare che arrivati al punto precedente quindi prima di applicare il limite notevole per cui uno meno cos x tendeva a un mezzo x alla seconda se io quindi ad esempio non conoscessi questo limite notevole ma volessi continuare ad applicare opital avremo quindi ancora il limite per x che tende a zero della derivata del numeratore sulla derivata del denominatore ora andando quindi ad applicare la derivata del numeratore sarebbe la derivata di uno che è zero meno la derivata del cos x che sarebbe meno sen x quindi al numeratore avremo sen x e al denominatore 6x e vedete che abbiamo ancora una forma zero su zero applicando ancora quindi il teorema di Opital quindi derivata del numeratore su derivata del denominatore al numeratore quindi la derivata del seno di x è coseno di x al denominatore la derivata di 6x è 6 a questo punto vedete che abbiamo appunto trovato il nostro limite quindi coseno di zero che farebbe uno su sei che farebbe quindi un sesto allora dobbiamo subito specificare alcune precauzioni per l'uso allora cominciamo un attimino dalla prima allora il teorema vale per i quozienti ma non per i prodotti cosa significa questa cosa? se ad esempio prendessimo questo limite quindi il limite per x che tende a zero più di x alla seconda per log x andando quindi a sostituire avremo quindi zero più alla seconda che farebbe zero più ovvero zero per il logaritmo di x che sappiamo al tendere di x a zero farebbe meno infinito e quindi vedete che abbiamo una forma indeterminata attenzione che in questo caso non possiamo andare ad applicare il teorema di Hopital facendo la derivata prima del primo per la derivata prima del secondo quindi se avessimo quindi il limite per x che tende a zero più della derivata prima di x alla seconda cioè 2x per la derivata prima del logaritmo di x che sarebbe uno su x vedete che otterremmo 2 attenzione che questo risultato è falso potremmo semmai tentare quindi di applicare il teorema di Hopital in questo modo quindi in pratica facendo quindi il limite per x che tende a zero più del logaritmo di x che lasciamo ad esempio al numeratore della frazione e scriviamo x alla seconda come 1 fratto 1 fratto x alla seconda chiaramente mettendo quindi x alla meno 2 al denominatore è la stessa identica cosa che averlo al numeratore x alla meno 2 sarebbe 1 su x alla seconda a questo punto quindi l'applicazione del teorema di Hopital quindi ci dice che possiamo quindi calcolare questo limite che ci dà una forma chiaramente indeterminata perché qua dove arriveremo arriveremo al logaritmo di 0 più che farebbe infinito fratto 1 su 0 più che sarebbe ancora infinito quindi meno infinito su infinito darebbe quindi una forma di applicazione di Hopital quindi facendo quindi la derivata del numeratore ovvero la derivata del log x che sarebbe 1 su x sulla derivata del denominatore quindi ricordiamo che 1 su x alla seconda sarebbe x elevato alla meno 2 quindi derivandolo porteremo il meno 2 davanti e quindi faremo x alla meno 2 meno 1 quindi x alla meno 3 meno 2 x alla meno 3 può essere scritto come meno 2 fratto x alla terza ad esempio adesso potete vedere che possiamo quindi semplificare la x al numeratore con x alla terza al denominatore e quindi questo diventerebbe 1 e questo x alla seconda che sarebbe il denominatore adesso ribaltandolo quindi spostandolo al numeratore rimarrebbe quindi meno che rimane stabile il 2 è sempre al denominatore e quello che finisce al numeratore sarebbe l'x alla seconda dopo averlo semplificato quindi il limite per x che tende a 0 di meno x alla seconda mezzi farebbe 0 ed è questo proprio il limite che stavamo cercando ora come seconda osservazione dobbiamo dire che il teorema si applica solo alle forme indeterminate del tipo infinito su infinito e 0 su 0 quindi ad esempio se noi prendiamo questo esempio dove facciamo il limite per x che tende a 0 del logaritmo naturale di 1 più x tutto fratto 1 più x vedete che andando a sostituire al posto della x lo 0 quindi al numeratore ci rimarrebbe logaritmo naturale di 1 che farebbe 0 al denominatore ci rimarrebbe 1 più 0 che farebbe 1 quindi il rapporto fra logaritmo naturale di 1 ovvero 0 su 1 farebbe 0 attenzione che se noi tentassimo di applicare il teorema di Hopital a una forma non indeterminata quindi qui ci da 0 e quindi non è indeterminata e quindi calcolassimo quindi il limite per x che tende a 0 della derivata prima del logaritmo naturale di x sulla derivata prima del logaritmo naturale di 1 più x allora qua dentro avremo limite per x che tende a 0 la derivata prima del logaritmo naturale di x più 1 sarebbe 1 fratto l'argomento quindi 1 su x più 1 per la derivata dell'argomento quindi che sarebbe 1 quindi rimane esattamente questa la frazione tutto fratto la derivata del denominatore la derivata di 1 più x è la derivata di 1 che è 0 più la derivata di x che è 1 e quindi vedete che insomma abbiamo 1 su x più 1 fratto 1 cioè 1 su x più 1 se noi andassimo quindi a sostituire lo 0 al posto della x troveremo 1 su 1 che farebbe 1 chiaramente questa cosa è falsa perché il limite vero faceva 0 quindi non posso applicare Opital se non a forme del tipo infinito su infinito e 0 su 0 come terza osservazione possiamo dire che il teorema prescrive di fare il quoziente delle derivate e non la derivata del quoziente quindi questo è molto importante quindi se ad esempio abbiamo un limite notevole quindi un limite notevole a caso che chiaramente i limiti notevoli possono sempre essere risolti con Opital quindi il limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 su x che sappiamo fare 1 ora se tentassimo quindi di risolvere in modo corretto applicando quindi il teorema di Opital facendo quindi la derivata del numeratore sulla derivata del denominatore andremo quindi a fare il limite per x che tende a 0 della derivata di e alla x meno 1 ovvero e alla x sulla derivata di x cioè 1 andando quindi a sostituire avremo quindi e alla 0 su 1 che farebbe 1 e questo è il nostro limite notevole di base se tentassimo di applicare il teorema di Opital in modo scorretto ovvero facendo quindi la derivata di tutta la frazione cioè il limite per x che tende a 0 della derivata prima di e alla x meno 1 su x chiaramente andando applicare quindi i concetti della derivazione delle frazioni avremo al denominatore il quadrato e quindi x alla seconda al numeratore avremo la derivata del numeratore che sarebbe e alla x per il denominatore ovvero x meno tutto il numeratore quindi e alla x meno 1 per la derivata del denominatore ovvero 1 facendo quindi i conti al numeratore troveremo quindi x e alla x poi meno 1 che moltiplica e alla x meno 1 quindi cambio di segno a quello che c'è dentro la parentesi quindi meno e alla x più 1 se noi quindi andassimo a sostituire adesso quindi il limite per x che tende a 0 quindi al posto della x 0 troveremo 0 per e alla 0 che chiaramente fa 0 meno e alla 0 che quindi farebbe quindi meno 1 più 1 quindi vedete insomma che alla fine otteniamo quindi qualcosa come 0 su 0 e se noi andassimo continuamente a replicare all'infinito questa cosa vedete che ci troveremo sempre uno 0 al denominatore perché questo poi diventerebbe x alla quarta poi x all'ottava eccetera eccetera e quindi la cosa sarebbe sempre irrisolvibile facendo in questo modo e quindi non corretta da questo punto di vista come quarta osservazione andiamo quindi a dire se il limite di f' su g' non esiste non è possibile fare nessuna affermazione sull'applicazione di Opital cosa significa questa cosa? quindi prendiamo ad esempio un limite di cui sicuramente sappiamo calcolarne il valore quindi una forma indeterminata ad esempio del tipo infinito su infinito se avessimo quindi il limite per x che tende ad infinito di x meno sen x su x più sen x quindi una forma infinito su infinito se noi andassimo a risolverla con la solita scala degli infiniti cosa troveremo? quindi è vero che al numeratore il seno di x e il seno di x al denominatore cambiano i loro valori però ci troviamo di fronte ad un valore x che è infinito confrontato con un valore del seno di x che può oscillare fra meno 1 e più 1 quindi diciamo che in termini di infinito il seno di x è trascurabile rispetto all'infinito x e la stessa cosa al denominatore quindi potremmo approssimare in maniera asintotica questo limite alla frazione x su x che chiaramente darà 1 ora se tentiamo di applicare in questa situazione il teorema di Opital quindi il limite per x che tende ad infinito della derivata prima del numeratore sulla derivata prima del denominatore che cosa otterremmo? otterremmo che facendo quindi la derivata del numeratore avremo quindi 1 che è la derivata di x meno il coseno di x che è la derivata del seno di x e al denominatore 1 più cos x ora se quindi andiamo a calcolare questo limite per x tendente ad infinito vedete che avremo 1 meno il coseno di infinito fratto 1 più il coseno di infinito chiaramente i coseni io non so che cosa fanno verso l'infinito possono chiaramente oscillare fra meno 1 e più 1 quindi non ho esattamente questo valore e quindi diciamo che questo limite non esiste ora vedete che ci troviamo di fronte a una situazione dove abbiamo applicato il teorema di Opital ma il risultato è che questo limite non esiste e quindi non possiamo affermare nulla circa la validità di questo risultato quindi circa il valore di questo limite stai preparando l'esame di analisi matematica 1 accede ai videocorsi di matematica e sotto nei corsi avanzati troverai il corso di analisi matematica 1 è un corso adatto ad ingegneria ci sono circa 40 video che trattano dei seguenti argomenti quindi limiti notevoli serie e successioni limiti di Taylor integrali e numeri complessi scopri il videocorso e prepara al meglio il tuo esame grazie a tutti